Dirigente Sabellico, intanto grazie per averci ospitato nel vostro istituto. Partiamo dal rientro a scuola. Dopo il secondo stop imposto dal governo alla didattica in presenza, da oggi, primo di febbraio 2021, gli studenti rientrano in aula, nelle aule. Rientrano al 50%. Come sta andando? Come è andata questa giornata intanto? Bene, grazie a voi. Intanto è andata molto bene, direi, nel senso che i ragazzi si sono presentati questa mattina nella stazione degli autobus e venivano anche dalla stazione ferroviaria in maniera molto ordinata e nel rispetto delle regole fondamentali anti-Covid. C'erano anche dei vigilantes in parte della TVO e della Polizia Locale di San Donato e Piave che cercavano comunque in maniera molto garbata di far rispettare il distanziamento. Quindi è stato un arrivo, diciamo, rispettoso delle norme. Anche gli ingressi a scuola, però di questo posso parlare solo dell'Alberti, è stato molto ordinato, nel senso che i ragazzi hanno rispettato anche gli orari di scaglionamento. Ogni istituto avevamo concordato che potesse avere degli orari differenziati di ingresso a scuola. Questi sono stati sostanzialmente rispettati e ha permesso quindi anche a noi che organizzavamo l'ingresso a scuola di poter gestire al meglio la situazione. Gli studenti avevano voglia di venire a scuola, di fare un'attività didattica favorendo la relazione col docente. Ma ai studenti mancava molto la socialità e questa la stanno cominciando a ritrovare. Ecco, lei prima ha citato anche un aspetto delicato che è quello dei trasporti. In mattinata abbiamo sentito anche i vertici della TVO che ci hanno detto che per garantire il trasporto al 50% hanno dovuto introdurre delle corse, 5 non tante finché ci sarà un incremento al 50%, qualora dovesse arrivare al 75% dovranno incrementare di ulteriori 20 autobus. Però anche qua, come ha sottolineato anche lei, ci sono i vigilantes che controllano, le situazioni vengono garantite e quindi anche per i familiari possono stare tranquilli. Tutto si svolge in maniera ordinata e sicura. Sì, questa mattina sarà così, ci auguriamo che sarà così anche nei giorni a venire. Ecco, c'è da sottolineare che c'è stato un coordinamento con i vertici della TVO, in particolare con l'ingegner Cerchier con i quali ci siamo sentiti, in modo che potessimo anche unitamente all'amministrazione locale per concordare insieme quali sarebbero state le condizioni migliori per il rientro. Facciamo anche un passo indietro però, perché inizialmente il rientro a scuola non era previsto per il primo febbraio ma per il 7 di gennaio e doveva rientrare al 75%. Voi dirigenti scolastici del territorio sandonatese ma anche portogruarese avete mandato una lettera aperta rivolta agli uffici scolastici della regione, al presidente Zaia, al prefetto di Venezia. Avete chiesto che venisse ridotto al 50% il numero di studenti in presenza. Questa richiesta è stata accolta, quindi voi siete anche stati ascoltati dai vertici. Sì, questo ci ha fatto sicuramente piacere, nel senso che noi non siamo stati coinvolti direttamente, noi come dirigenti scolastici, certo che sì l'ufficio scolastico regionale, infatti la dottoressa Palumbo, il direttore generale, era sempre presente agli incontri in prefettura, ma noi direttamente no. Sapevamo come stava andando il ragionamento, sapevamo anche che si era orientati al ritorno al 75%, non solo perché c'erano delle disposizioni ministeriali che andavano in questa direzione, ma anche perché c'era anche a livello della prefettura di Venezia un orientamento al 75%. Allora noi abbiamo cercato di portare le motivazioni, per cui ritenevamo allora in quella situazione di poter dare delle indicazioni, così come per esempio anche per i doppi turni, si parlava in quel periodo di doppi turni a scuola, che per la nostra realtà locale, io direi veneziana in generale, ma sicuramente per questa parte della provincia di Venezia era improponibile, questo avrebbe richiesto un'organizzazione più complessa, ma soprattutto un'organizzazione dei lavori degli insegnanti che sicuramente sarebbe stata molto faticosa. Ne approfitto allora per questa considerazione. La situazione pandemica attuale quanto sta incidendo in termini di costi, in termini di gestione, in termini di personale alle scuole? Beh, ci sta... Anche psicologici magari. Ci sta costando molto appunto da un punto di vista psicologico, nel senso che organizzarci in una situazione in cui in queste ultime settimane, soprattutto intorno al periodo natalizio, in cui i contagi erano molto alti, e tutti noi ne eravamo interessati, ecco, io in quel periodo ho fatto sei tamponi, tanto per... quindi eravamo molto preoccupati che una situazione di ritorno a scuola, benché sicuramente la didattica in presenza è insostituibile da qualsiasi altra formula o pensiero intorno alla didattica, era tuttavia pericolosa in quel momento. Oggi ci sentiamo di accoglierla molto più favorevolmente. Dicevo ai ragazzi questa mattina, perché ho fatto un giro in tutte le classi, che va a coincidere anche con il passaggio della Regione Veneto alla fascia gialla. Intentiamo e pensiamo a tutto questo come un momento di ripartenza, no? Quindi verso la normalità. Sempre con la dovuta attenzione però. Dando loro un contributo fondamentale, perché per tornare alla normalità, adesso l'abbiamo imparato dopo l'incidente estivo, per tornare alla normalità c'è bisogno della partecipazione e della responsabilità di tutti. Quindi dicevamo tre cose fondamentali, mascherina, ce l'ho anch'io qua, distanziamento e sanificazione. Ecco, queste sono le cose che chiediamo ai ragazzi, ma loro stanno rispondendo in maniera molto molto intelligente, come è di consueto da parte loro. Ecco, andiamo adesso invece al punto focale dell'attività scolastica, ovvero quella dell'insegnamento. Come avviene con il 50% a distanza e in presenza? Ecco, allora, anche qui noi ci siamo coordinati, ecco, questo è un dato che mi piace riportare. I dirigenti scolastici, non solo del San Donatese, ma anche delle due aree, San Donatese e Porto Curarese, ci siamo confrontati molto sulle varie modalità, pur nella specificità dei singoli istituti, perché ogni istituto poi ha una storia a parte, ma anche una funzione diversa rispetto agli altri. Ci sono istituti dove i laboratori, i professionali e alcuni tecnici, dove i laboratori sono essenziali per lo sviluppo della didattica, mentre in altri istituti meno. Quindi ci siamo organizzati in maniera diversa. Tuttavia, però, nel concordare, nel decidere quale azione svolgere all'interno di ogni istituto scolastico, abbiamo pensato al 50% o nella formula di alternanza di classi, quindi classi che si alternavano indipendentemente dal numero, o il 50% della, quando parliamo del 50% c'è da precisare, parliamo della popolazione scolastica, ecco. Quindi, o il 50% classi intere che si turnavano, o il 50% anche relativamente al numero complessivo degli alunni. Allora, su questo ci siamo un po' orientati. Posso dire come ci siamo mossi all'Alberti. All'Alberti, a rotazione, le classi inferiori ai 22 alunni, ecco, sono venute in presenza, tornandosi poi settimanalmente con le altre classi, mentre le classi superiori a 22, quindi da 23 fino ai 28-29, abbiamo delle classi ancora da 29, abbiamo dimezzato il numero degli alunni che si alternano. Quindi, quella classe verrà tutti i giorni della settimana, però alternando il 50% dei studenti. Quindi la nostra è una formula mista. Per gli alunni che sono a casa, per il 50%, ecco, in queste sono le classi, su 54 classi che abbiamo, circa 22 classi vengono con metà numero. Ecco, l'insegnante tiene la lezione in presenza e con alcuni accorgimenti tecnici è in collegamento diretto con gli studenti a casa. Quindi studenti da casa possono assistere alla lezione. Come fossero effettivamente in aula, quindi? Come se fossero in aula. Stiamo cercando di diventare più bravetti utilizzando la strumentazione necessaria, perché, insomma, non eravamo abituati. Quindi ci siamo attrezzati anche con l'aiuto dei tecnici. Quindi stiamo cercando di attrezzarci a meglio. Nel caso, sperando sempre di no, nel caso ci fossero dei contagi nelle aule, al primo di febbraio le disposizioni cosa prevedono? Allora, le disposizioni che sono in parte state modificate prevedono, ad esempio, che gli studenti, nel momento in cui il dirigente scolastico, anche grazie al lavoro del referente Covid, viene informato che un ragazzo o una ragazza è stato contagiato, noi dobbiamo fare in modo che tutta la classe in via precauzionale rimane a casa, in isolamento fiduciario, finché non fanno il tampone. Il rientro a scuola, a differenza di prima, è determinato da una certificazione del SISP, qui questa è l'indicazione, oppure le linee guida prevedono del medico curante o del pediatra di libera scelta. Comunque non sarà mai il dirigente scolastico a decidere, beh, vedo l'esito negativo e lo faccio rientrare. No, ci deve essere una chiara certificazione da parte dell'autorità sanitaria che ci dice può rientrare oppure è terminato il periodo di quarantena o di isolamento fiduciario. È cambiato qualcosa anche sul versante degli insegnanti. Ecco, mentre prima anche gli insegnanti eseguivano questa strada, quindi una volta individuato l'alunno affetto da Covid, l'insegnante doveva andare a fare il tampone, adesso le linee guida prevedono che l'insegnante viene inviato dal dirigente scolastico al Covid, dal dirigente scolastico in accordo con l'autorità sanitaria, a fare il tampone anti-Covid, solo nel caso in cui è stato a contatto nelle 48 ore precedenti con quella classe dove era l'alunno e per quattro ore consecutive. Ecco, cosa che difficilmente si verifica per una scuola media o media superiore. È più facile che ciò si possa verificare invece per la scuola primaria o per l'infanzia. Ultima battuta, dirigente. Gli insegnanti come stanno vivendo questo momento? Abbiamo parlato a lungo degli alunni, però anche voi insegnanti state vivendo questa situazione. Come la state vivendo e cosa auspica da qui ai prossimi quattro mesi che arriveranno a conclusione dell'anno scolastico? Bene, allora, da un punto di vista psicologico siamo preoccupati. Ecco, diciamo che gli insegnanti di ruolo delle nostre scuole hanno un'età di media intorno o superiore ai 50 anni. Quindi sappiamo che è un'età critica. Molti si avvicinano ai 60. Quindi la preoccupazione c'è, soprattutto quando quotidianamente ci si trova in aula con 20 ragazzi, 20-21 ragazzi che non sappiamo quanti contatti hanno avuto con chi hanno passato le loro giornate pur con le mascherine, pur con il distanziamento, una certa preoccupazione sicuramente c'è. Quello che non si conosce fa sempre paura. Quello che non si conosce fa paura. Anche se il comitato scientifico, le autorità sanitari ci hanno guardato che statisticamente a scuola non ci sono sviluppati focolai particolari per cui stati tranquilli. Però psicologicamente il timore sicuramente c'è. Però lo stanno affrontando davvero in maniera molto seria e professionale. Gli insegnanti sono a scuola. Per esempio nel mio istituto non ho insegnanti che hanno chiesto fragilità o hanno chiesto di stare a casa per qualche motivo. Sono tutti al lavoro e tutti hanno cercato, voluto che si tornasse a scuola perché la relazione educativa come potete immaginare è fondamentale nel processo di insegnamento e di formazione dei nostri ragazzi. Quindi c'è volontà di cominciare. Prossimi quattro mesi. Noi ci auguriamo che terminato il mese di febbraio la situazione sia tale che si possa tornare al 100% della presenza. Vorrebbe dire che stiamo andando davvero verso la normalità. E anche per permettere ai ragazzi di quinta di fare più serenamente possibile gli esami di Stato perché questa è una preoccupazione che so che molte famiglie, molti ragazzi e le famiglie dei ragazzi hanno rispetto all'esame di Stato. Grazie dirigente Sabelli e in bocca al lupo per il resto dell'anno. Grazie a voi per l'intervista. Grazie.